Bentornati all'ascolto dei miei audio sulla dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Durante la serata è stata Vera Gemma ad essere eliminata definitivamente dall'Isola. L'attrice ha perso al televoso contro Fariba Serrani e quindi da una parte abbiamo avuto la delusione e la tristezza di Asia Argento che sosteneva Vera e dall'altra invece la gioia della figlia di Fariba Giulia Salemi che chiaramente è felice di poter vedere ancora sua madre e continuare il percorso in questo reality. La naufraga, mi riferisco a Vera, era già stata eliminata qualche settimana fa ma le era stata poi data la possibilità di continuare spostandosi all'insaputa degli altri naufraghi su un'isola vicina. Adesso però lei deve abbandonare ormai definitivamente e prima di andar via ha dovuto dare il consueto bascio di Giuda e ha scelto così il primo concorrente a cui destinare una nomination. Vera ha basciato Oed, la sua scelta è stata scontata perché lei durante tutto il suo percorso si è sentita tradita dal suo atteggiamento. Vi ringrazio dell'ascolto e vi invito a mettere un like se il contenuto di questo audio vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle ultime notizie.